Allora, cari lettori e cari lettrici di oran.net, buon pomeriggio. Allora, come potete ben vedere, siamo connessi in diretta con due straordinari colleghi della carta stampata e non, del web e non. Stiamo parlando, al mio lato innanzitutto c'è il direttore di oran.net, che poi sono memmedesimo, sono Fabrizio Lomato. E sul lato destro potete vedere Gabriele Marini. Buon pomeriggio, caro Gabriele. E sul lato sinistro c'è il decano dei giornalisti sportivi in ambito di basket, cioè Edoardo Lubrano. Buon pomeriggio, Edoardo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Fabrizio, ciao Gabriele. Buon pomeriggio. Bene, allora, come si potrebbe anche intuire dal simpatico cartello che vige alla sinistra di Gabriele, il tema sarà, ce la faranno i nostri simpatici eroi della Virtus.Roma a conquistare questa promozione in Lega Basket dopo tutti i piccoli semi, piccoli infarti che ci hanno causato in questa stagione, dopo essere quasi riusciti a farci prendere vari coccoloni, eccetera, eccetera, eccetera. Io comincio il dia di massima con Edoardo. Allora, io faccio una cosa che fa un personaggio politico, a me non simpatico naturalmente, anzi, che però si presenta sempre con dei fogli e naturalmente non so se si vede, però qui c'è scritto che Legnano ha vinto sei partite, di cui tre in casa su tredici. L'ultima vittoria risale, sì, con Cassino il 7 aprile, quella precedente è del 27 gennaio con Bergamo, 92 a 87, certamente uno scalpo importante. La terza vittoria è nel girone di andata, che fu la prima, poi in realtà con Rieti, altro scalpo importante, però 3 su 13, Roma ne ha vinte 7 su 13 fuori casa nella Virtus. Questo mi autorizza a pensare che non c'è dubbio che Roma, nonostante i balbetti di questo girone di ritorno, che sicuramente è stato meno trionfale dell'andata, sarà a Legnano sabato sera e vincerà contro i Knights e si porterà a casa questa Serie A, che secondo me comunque è meritata anche a maggior ragione dopo, ne abbiamo parlato in privato Fabrizio, dopo le inutili e francamente in ritardo polemiche di Sodini, l'allenatore di Capodorlando, che l'altro giorno dopo la vittoria ha detto, lui non ha nominato Siena, però si è lamentato del fatto che con la storia dell'eliminazione di Siena lui ha perso 4 punti, a questo punto qualcun altro sarebbe più in difficoltà. Insomma, tra l'altro anche questo modo di dire e non dire a me non piace, è una cosa che mi irrita proprio profondamente, anche perché insomma chi segue all'around e ha la sventura di leggere i miei pezzi sa che io scrivo sempre nomi e cognomi, vado diretto e mi prendo tutte le responsabilità di quello che scrivo e quindi anche adesso ho trovato l'uscita di Sodini veramente molto sgradevole. Lo ripeto ancora una volta, lo sanno tutti, quello che penso, Roma è prima dalla prima giornata di campionato, salvo la seconda in cui ha perso a Bergamo e ha avuto tre compagne di viaggio, ma è sempre stata lì. Quindi nessuna squadra merita più di Roma la promozione in Serie A, anche perché chiedo a Sodini dov'era Capodorlando mentre Roma, leggerone di andata, faceva quello che ha fatto, cioè vinceva in continuazione. Poi le pause ci possono essere, la stanchezza, la difficoltà, la lunghezza di un campionato che fa naturalmente a un certo punto anche tremare le gambe, la pressione. I giocatori di Capodorlando sono più abituati, alcuni perlomeno hanno già vinto campionati e hanno più abitudini a un certo tipo di pressione, quelli di Roma no e quindi a un certo punto si può anche stare che ci sia stato un calo quasi fisiologico, mentale. Però Roma questo campionato non lo ha dominato, ma sicuramente è sempre stata in testa. Quindi credo che sia giusto che lo vinca e sono convinto che sabato sera a Legnano Roma vincerà perché è più forte di Legnano. Dunque, hai fatto come al solito, come immaginavo, un'analisi perfetta direi, ma non per farti un plauso ma perché sei andato a toccare tutti dei temi estremamente interessanti. No, 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 io la trovo abbastanza perfetta. Per fortuna l'amico Edo ha toccato tutti i temi, tranne uno che era quello che non me l'ha cannibalizzato il tema che volevo dire io. Meno male, lo ringrazio e vi metto sul piatto questo boccone succulento. Solo un aspetto, Edoardo non ha forse voluto toccare, che io invece vado a proporvi. Quello della, lo dice il mio cartello, il cartello alle mie spalle, della pericolosità della testa dei giocatori, non direi del coach, perché il coach ha fatto uno sprendito lavoro in questa stagione, lo ha ribadito prima Edo, con una squadra nuova formata così, diciamo così e così, non faccio nomi santi angeli e saccargi, però la testa di tutti quanti è la vera mina vagante di sabato sera, perché dovesse ripetersi, e questa è una domanda aperta che faccio a voi e a chi ci ascolta, dovesse ripetersi quelle catombe successe a Rieti, gli ultimi dieci minuti Roma giocherebbe ancora una volta l'ultimo quarto contro se stessa? Ecco cosa volevo dirvi. La pericolosità della mente dei giocatori sul parquet di Roma, quello ci ha fatto paura durante quest'annata. Posso rispondere io in prima analisi, hai centrato il problema in questi giorni anche con te, ma anche direi con l'Edoardo, abbiamo sempre detto questo e anch'io ho sempre sostenuto che questa squadra era già promossa, se non avessi avuto queste scivolate, vogliamo chiamarle così, che in casa con l'Orlandina ci può anche stare, perché l'Orlandina ha avuto un periodo e sta comunque producendo un ottimo basket. Però le trasferte di Trapani, le trasferte di Rieti, soprattutto quella di Treviglio, hanno lasciato un po' a desiderare, nonostante ovviamente il buon Edoardo abbia sotto un lì, perché non voglio neanche entrare su Scafati all'andata, i liberi che ha lasciato Sims a tempo scaduto, il problema è proprio questo, siamo tutti un pochettino, siamo fiduciosi e sicuri, ma non sappiamo come potere, come potrebbe reagire la testa di alcuni giocatori, sono quasi tutti, della Virtus Roma, qualora Legnano fosse nella condizione in cui si mettesse a praticare il suo basket, che è un basket molto aggressivo, hanno molti punti nelle mani. E se Roma tra l'altro poi recentemente fuori casa non ha brillato, soprattutto in attacco, alla luce delle ultime tre trasferte tutte perse, tre, quattro trasferte direi tutte perse, e effettivamente questo ottimismo sembra un po' illogico, ma è suffragato da quello che ha detto Edoardo, che condividua al 100%. Quello che compaia il tuo fantastico cartello alle spalle, che è Ictus Roma, non si dovrebbe verificare. Abbiamo visto anche che domenica la Virtus Roma ha giocato con una determinazione, con un piglio che effettivamente nelle ultime sfide non avevamo visto, neanche quelle in casa vinte, sia contro Tortona che anche quelle più recenti. Quindi abbiamo visto una squadra contro Grigento, quindi abbiamo visto una squadra ben determinata, con la faccia cattiva, come non si vedeva da parecchio tempo. Il problema è che io non ho mai avuto dubbi in casa, il problema è che fuori casa si è riuscito anche a prendere a Cassino, che ne ha vinte due fino adesso in stagione. No, però Cassino io continuo a considerarlo un bruttissimo, ma incidente di percorso. Poi Legnano non è Rieti, è molto più scarsa, è molto più debole di Rieti. Quindi dubito che di fronte a un momento in cui Roma dovesse trovarsi avanti di 10, 15, 16, mettiamo anche 21 punti a 12 minuti dalla fine, come è successo a Rieti. Dubito che Legnano abbia la forza e la qualità di Rieti, anzi non dubito, sono sicuro che Legnano non ha la qualità di Rieti per fare quel tipo di rientro e per mettere così tanta paura alla Virtus.Roma. Anche perché, prendo spunto dalle parole di Fabrizio, le ultime tre trasferte di Roma sono state brutte e Legnano ha tanti punti nelle mani. Legnano in casa segna 75 punti, Roma fuori casa ne segna 81. Se anche volessimo fermarci solo a questi numeri, ecco che mi pare che tutto vada dalla parte della Virtus. Poi il cartello che ha Gabriele dietro la schiena è ovviamente un campanello, non è un campanello, è una cosa da non far squillare. Questo siamo tutti assolutamente d'accordo, io lo trovo molto divertente. Infatti prima che cominciasse la registrazione glielo ho detto a Gabriele, ho detto fantastico, perché il rischio è quello, cioè che magari gli venga il braccino, la paura di vincere, la paura di vincere, oddio stiamo per essere promossi in Serie A, oddio 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 che paura. Però è anche vero che per non aggiungere un nome ai due fatti da Gabriele prima, direi che per esempio domenica Nick Moore ha giocato una ottima partita e mi auguro che lo faccia anche sabato. Allora, se Nick Moore gioca, non è che Nick Moore è il più forte di tutti, ma è il playmaker titolare ed è uno che ha tanti punti nelle mani. Se lui gioca come sabato e fa, non mi ricordo, quindici, però sette assist o sei assist, beh insomma siamo un pezzo avanti, ma siamo tanto un bel pezzo avanti. E voglio, sono certissimo che Piero Bocchi starà preparando questa trasferta con la stessa intensità. Cioè giocano, cioè mentre noi tre ora stiamo parlando, loro giocano a palla abelenata? Non so se a quest'ora, sai Gabriele, se alle tre del pomeriggio stanno già giocando a palla abelenata, ma chissà, può darsi. Che ne so, magari si è inventato un altro gioco, magari palla tennis, che ne sai. Senti Gabriele, io volevo ricondurre il tema su, tu sei più vicino al mondo dei tifosi, che cosa hai percepito in questi giorni dal post-gara vinto direi nettamente contro Scafati, che cosa hai percepito? Allora, premetto, senza considerare i nostri amici tifosi, diciamo, meno addentro di noi addetti ai lavori nel mondo Virtus, fatta questa premessa, senza considerare un minus per loro, tuttavia i tifosi sugli spalti, perlomeno lì dove ero io, è cosa risaputa che io mi alzo sempre a metà della partita e mi vado a vedere gli ultimi due quarti presso la pancia dei tifosi per sentire, per indagare, eccetera, eccetera, in questo frangente ho capito che i nostri amici tifosi credevano una partita vera e seria contro Scafati, cosa che noi, dalle postazioni nostre privilegiate, privilegiate fino a un certo punto perché abbiamo un bellissimo canestro davanti agli occhi, ma questa è la verità, ho le altre discussioni, diciamo esatto, diciamo che noi da lì sotto abbiamo visto, come tu anche hai rilevato molto bene nel tuo pezzo, che è a metà gara, 52 punti fa, 49, 52 punti fa, era bella che è finita, per cui sugli spalti questo non si capiva, hanno pensato, perlomeno lì dove ero io, che la partita fosse da fare fino al quarantesimo, è una cosa che noi sapevamo non stare in piedi, per cui che voglio dire, la percezione del tifoso è e resta quello dello scontro, della cosa, Scafati non aveva nulla da chiedere, se non rompere un po' le balle con i suoi giovani e dare gomitate, gomiti alti, cose eccetera, come era stato all'andata, ricorderete eccetera, detto ciò, cosa pensano i tifosi di sabato? Quelli che ho sentito io sono arrabbiati che la carovana che vanno a fare sabato di Pasqua sulla A1 sarà una carovana intasata anche di tifosi della Roma che vanno a vedere la Roma ammeazza, sono arrabbiati di questo, nel senso, viva Roma che si trasferisce al nord per questi appuntamenti, però gli dà un po' fastidio perché vorrebbero tutta la leco mediatica su questa storia, che da un altro punto di vista hanno ragione, dopo quattro anni di purgatorio, meno male che c'è Sport Italia che fa capire all'Italia intera, o quella appassionata di basket, che è una cosa più importante per la capitale, questo dicono i nostri tifosi, e cioè sempre con sto calcio, sempre con sto calcio, la Virtus sta tornando in Serie A. Caro Gabriele, qui ci stai mandando in gol a porta vuota, qui stiamo toccando a uno dei gangli fondamentali, vero Edudel, di quello che da tempo, non che non capiamo, non riusciamo sinceramente a realizzare, perché in una città come Roma, dove è fondamentale la comunicazione, proprio perché ci sono tantissime anime, non tutti possono sapere quando gioca Roma, dove gioca Roma, contro chi e soprattutto a che ora. Chi vive come noi sui social media già è sicuramente più informato, perché quest'anno la società di comunicazione che ha affiancato la Virtus Roma da settembre in questa nuova avventura si è data da fare, si è data da fare. Ha fatto un ottimo lavoro, per il resto 0,0. 0,0 e la cosa è francamente antipatica sotto certi punti di vista, mi sa che abbiamo perso Gabriele che è entrato in pausa e quindi rimaniamo io e te e tu a questo punto. No, no, bene, direi che Gabriele ha toccato un tema fondamentale. Assolutamente, sai, è una delle cose di cui discutiamo tantissimo io e te, di cui scriviamo tantissimo, di cui io scrivo moltissimo. Ecco, mi sa che Gabriele è ritornato. Sta tornando, vediamo parti del suo ufficio. Eccolo là, perfetto, eccoci. Ho citato per aggiornare il file dietro, l'A3 dietro di me. Ah, ci pensano gli USA. Ci pensano gli USA di Roma. Benissimo, speriamo. che la pallacanestro, in generale, sia il sistema basket in Italia, sia gestito in un modo, nemmeno coi piedi, perché coi piedi almeno ci sarebbe una gestione. No, da vecchi baroni, dai, l'hai detto tutt'altro, ho sposato questa tua cosa meravigliosa, intuitiva, da vecchi baroni, le baroniste alle università. Esattamente. E questo è acclarato. È chiaro che essendo il sabato di Pasqua, giocano tutti il sabato di Pasqua perché non si può, perché la domenica è sacra, ovviamente, per carità di Dio. Però, insomma, alcune cose si potevano fare lunedì, si potevano fare... Puro domani. Domani, appunto, il venerdì. Insomma, si poteva anticipare per cercare di distrarre l'attenzione, spezzettare e via dicendo. Comunque, detto questo, ormai ci siamo. E che dobbiamo fare. Questo ci teniamo, questo abbiamo e questo ci teniamo. Volevo aggiungere una cosa. Sia ben chiaro che se la Virtus non dovesse vincere a Legnano, è evidente che non si è meritata nulla. Cioè, non solo non si è meritata la promozione diretta, ma che i play-off saranno una battaglia terrificante, ancora più pesante perché ci sarà il fardello di aver mancato all'ultima giornata la promozione diretta dopo aver guidato il campionato per tutta la stagione. E quindi il pallone peserà tantissimo oltre al valore delle squadre che si andranno ad affrontare ad Est, che, diciamo così, mediamente sono forti quanto la Virtus e quindi saranno partite, io direi, mediamente equilibrate. Quindi, laddove non si dovesse riuscire a Legnano a prendersi questa promozione, Bucchi e il suo staff saranno costretti ad un lavoro psicologico, prima che tecnico, di proporzioni assolutamente clamorose, che io credo loro siano capacissimi di fare, questo sia chiaro. Ma, insomma, sarebbero play-off veramente da ictus e da infarto perché poi, insomma, alla fine te andresti a giocare contro squadre, direi, abbastanza toste. Ovviamente, come tutti i play-off, evidentemente, questo è evidente. Te lo dico subito, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi, è probabile che Roma se la debba vedere, se qualora non dovesse vincere, e incrociamo le dita, qualora Roma non dovesse vincere a Legnano, è probabile che se la debba vedere o contro la Pompea-Mantova o contro Ravenna, adesso non ricordo bene. O anche Forlì, ci sono mille combinazioni possibili adesso. Esatto, esatto. Ma io mi permetto di dire una cosa e mi assumo la responsabilità di quello che sto per dire. Se Roma non vince contro Legnano, secondo me non passa neanche il primo turno dei play-off. Perché sarebbe, ma io credo questo, perché sarebbe la certifica di, ma io lo dico con massima serenità, sarebbe la prova provata che una squadra che, allora, se non vince a Legnano, vorrei ribadito per la cronaca, Legnano ha fatto alcuni aggiustamenti nel proprio roster. Hanno preso Marco Laganà, che è un giocatore sfortunatissimo, di grande talento, che però, proprio per i play-out, per tenerselo buono, lo hanno congelato in questi ultimi due o tre gare, quindi non ci sarà Marco Laganà, che era un problema in più, però ci sarà quel Charles Thomas, che all'andata non c'era, perché all'ultima gara al palo abbiamo Brandin, loro no. Bravo Gabriele. E poi, io ripeto, ci sarà un motivo se Legnano, Charles Thomas o non Charles Thomas, Laganà o non Laganà, ha vinto sei partite, di cui solo tre su tredici in casa e la Virtus ne ha vinte diciannove, di cui sette fuori casa? Alla fine, le classifiche a questo punto della stagione, le classifiche qualcosa dicono, perché sennò allora va bene tutto, allora perché Legnano non è prima? Noi siamo d'accordo su Ictus Roma e su High Alert sicuro, perché sappiamo come la Virtus è una squadra che può fare, sfasciare tutto, però sul fatto che la partita vada vinta intanto in campo, anche siamo d'accordo, cioè bisogna che gli arbitri alzino la palla a due, che si giochino 40 minuti e che alla fine Roma abbia fatto più punti di Legnano, su queste cose siamo assolutamente d'accordo, ma per paura della partita e di Legnano no, no per favore, perché Legnano ha vinto sei partite e la Virtus se ne ha vinte diciannove. Allora possiamo riassumere così. Non possiamo dire che però Legnano c'è. No, no, hai ragione, possiamo riassumere così, allora non può essere Legnano, non possono essere i Knights, i Cavalieri, l'esame psicologico probante per questa Virtus, perfetto, un'altra squadra forse sì, loro no. Insomma io sarei stato più preoccupato se fosse se fosse stato Bergamo, Treviglio, Capodorlando, Rieti, Casale, Biella, cioè una di queste partite qui, francamente anche Agrigento mi avrebbe preoccupato un po' di più. Paradossalmente invece Edo però, assolutamente. Io sono preoccupato naturalmente del Braccino, questo sì, questo sì, della paura di vincere, ma non di Legnano, ma non è Legnano la mia preoccupazione, non me ne frega l'hai spiegato bene, se tu prendi l'abbrivio e vai sopra di 12, 15, quello che sia, non è questa squadra che ti può rafforzare. Ok, chiaro. Adesso comunque questo abbrivio che hai avuto a Rieti non sei riuscito poi a mantenerlo o anche a Trapani quando tu sei andato sopra di 12 a 8 dalla fine e hai mollato i pappafichi tirando da tre in modo un po' sciogurato. Ma Trapani è più forte di Legnano, lo vogliamo dire o no? Perché sennò... Allora, scusami, forse non riesco... Stiamo dicendo che il problema è la Virtus. Ma è quello che stiamo dicendo entrambi. Ed è quello che ha capito Bucchi da parecchio perché lui li vede ultimi giorni e l'ha capito per primo. Io purtroppo forse non riesco a spiegarmi bene o doverosamente. Con questa squadra che è capace di perdere, come abbiamo visto nelle ultime tre gare, fuori casa, e ribadisco perché se fosse stato Roma-Legnano non c'era neanche da giocarsela. Ma siccome è Legnano-Roma io sono un po' preoccupato, ho una mia sensazione di inquietudine perché non sappiamo, sulla base di un recente passato, perché quello che ci ha destabilizzato, e spero che su questo siamo tutti d'accordo, che nel giro di andata questi ragazzi hanno fatto delle grandi prove fuori casa. Sono andati a vincere su campi come Biella, in quelle condizioni che ti ricordi si era al post-Bergamo, si è vinto ad Agrigento, si è vinto a Capodorlando, si è vinto a Latina senza i due stranieri. Quindi significava, io ho detto, allora qui c'è qualcosa, c'è qualcosa che ora sembra, fuori casa, che si è svarito nel nulla, si è quasi vaporizzato. Quindi siccome io non credo né agli influssi, né ai fluidi magici, ma credo nei numeri del pallone, io dico che da un lato c'è una squadra che gioca assolutamente priva di tensione, priva di nulla perché sanno che devono fare i play-out, ma che vogliono comunque chiudere davanti al loro pubblico con una buona prestazione, con la capolista, con la potenziale nuova promossa, e non vogliono farsi fischiare addosso come troppo spesso è successo in stagione. Dall'altro lato abbiamo una squadra buona, non eccelsa, che se dovesse andare come abbiamo visto fino adesso, io non ci metto, la mano sul fuoco, che saprebbero reagire in maniera pronta come hanno fatto invece qui al pallo automatica in varie circostanze. E qui vorrei integrare io con la seconda domanda, o meno con la domanda del secondo cartello, non pensate voi che in questo caso che ha delineato adesso Faber non scendano in campo le truppe cammellate, ovvero Sims e l'amico nostro Moore, che svegliati da un, come dire, Bucchi pregante, prenditeli sulle spalle, ti prego perché mancano pochi minuti e dobbiamo tornare. Va bene, però scusa, cominciamo col dire che Harry Sims è stato nominato il miglior giocatore del girone ovest di marzo, quindi Sims non gli puoi dire nulla, anche se io, come ho anche scritto, ho visto nell'ambito di questo campionato un'evoluzione, secondo me, anche negativa, non combatte più come prima sotto canestro, non vuole prendere più botte perché non è tutelato, gli viene fischiato anzi fallo al contrario. E molte persone di un certo livello, anche a livello arbitrale nelle altre sfere, mi hanno detto sì, effettivamente quelli più forti nella Lega 2 sono penalizzati, non si sa bene per quale motivo. Va bene così. Quindi, Moore è un grosso punto interrogativo, Moore è un grandissimo punto interrogativo, perché se Moore avesse fatto Moore, come ha scritto spesse volte anche Edu, probabilmente noi già stavamo festeggiando, stavamo pensando, ma andiamo a Bologna, andiamo da qua, andiamo da là. Io sono convinto che i due USA devono dare qualcosa in più, però mi permetto anche di dire che certi italiani devono finalmente dare un rendimento esterno che dai primi di febbraio, cioè dal dopo trionfo di Farentino, perché è stato un trionfo quella gara, e quella grande vittoria a Casale a Monferrato con la tripla di seccaggio e lo scadere, Roma ha disputato delle gare in trasferta a, dir poco, rivedibili, per non dire pessime. Allora, io voglio dire due cose rapidissime. Certamente i due americani sono quelli che sabato dovranno ancora una volta tirare la carretta più degli altri, su questo non c'è dubbio. Il mio parere su Harry Sims, Fabrizio lo conosce, forse lo conosce anche Gabriele, io penso che sia un giocatore fantastico, sicuramente ha avuto una involuzione, ma è anche vero che là sotto ha giocato praticamente da solo per tutta la stagione, ha preso un sacco di botte, come giustamente ha rilevato Fabrizio, per cui a un certo punto pure detto, vabbè, è anche naturale che a un certo punto uno dice, vabbè, chiedere devo prendere sempre e soltanto tutte io, se nessuno mi dà una mano sotto canestro, però è un giocatore fuori categoria ed è uno su cui si può sempre contare. Ha toppato la partita di Treviglio e vabbè, però può succedere che un giocatore toppi una partita, però è una, come dice, come diceva Totò, è una pietra emiliana direi assolutamente della Virtus. Moore, se gioca come ha giocato con Scafati, direi che non ce n'è per nessuno. Quello che voglio dire, a proposito, per chiudere io personalmente l'argomento trasferta a Legnano o meno, quello che giustamente ci agita e ci mette così, insomma ci fa stare un po' tesi, è il fatto che è la partita decisiva. Che si giochi a Legnano, secondo me, non può essere l'argomento preoccupante. Perché voglio molto bene a Legnano, ho avuto una polemica poi con Marco Tagliana, come sai Fabrizio, l'abbiamo avuta come all around, poi rientrata, naturalmente, perché tutti possono fare delle stupidaggini così, distinto d'Amblè. Però Legnano non mi preoccupa come squadra, assolutamente, mi preoccupa che è l'ultima partita e ci può stare che vada come Fortitudo Imola al primo match point. Dopo i due quarti, Imola era ancora attaccata alla Fortitudo e la Fortitudo non riusciva a vincere l'emozione di avere il primo match point in casa davanti ai suoi tifosi, quindi è ancora più grave, per certi versi. E Imola stava lì, è stata pure avanti. Poi, a un certo punto, Esbrook ha detto, ok, adesso vi faccio vedere io, ha cominciato a tirare da tutte le parti, a far canesso da tutte le parti e dopodiché partita a rivederci e grassi. Ma per 20 minuti, Fortitudo Imola, primo match point. Ma io sono convinto che... Il problema non è Legnano, è che... La settima finale, come diceva Bocchi, dovremmo fare sette finali. Siamo arrivati, signore e signore, alla settima finale. Però non mi parlate di Legnano, capito? Non mi venite a dire Charles Thomas o il playmaker di Legnano o l'ala di Legnano, perché, insomma, francamente, no. Non voglio parlare della pericolosità di Legnano. Io voglio, casomai, affrontare l'argomento difficoltà dell'ultima partita decisiva che devi vincere a tutti i costi e questo vale per tutti. Vale per la Juventus l'altra sera. Io, prima delle 8 e 25, prima delle 20 e 40, cioè cinque minuti prima che cominciasse Juventus-Ajax, ho sentito fiori di commentatori dire Sì, l'Ajax è una squadra dei fenomeni, però, insomma, alla fine sono ragazzini. La Juventus è una squadra forte, quadrata, tosta, esperta, a questo livello. No, come interpreti quella partita, bravissimo, quella finale o non fine. Come interpreti quella partita? Cioè, io non posso dimenticare, tu hai parlato della Juventus. Tanti anni fa la Juventus aveva in mezzo al campo un terzino, anzi, che si chiamava, lo chiamavano il Falegname, adesso non mi viene il nome, come, insomma, quello fece l'MVP della serata. Siamo parlando di Torricelli, Moreno Torricelli. No, Moreno Torricelli, sì. Fece da MVP quella sera e la Juventus vinse grazie a lui. Ecco. La Juventus è una squadra di Coppa dei Campioni, c'è tu. Esatto. Esattamente come tu interpreti quella gara, ha ragione, ci può essere chiunque lì di fronte, certo, l'avversario è importante, però come la interpreti con la testa, eccetera, secondo me... Stai dicendo saccaggi, 20 punti, 7 rimbalzi, 8 assist, 2 stavate. Non c'è mai tolto le parole di Coppa. Non vale, lo vedi che cannibalizzi, lo vedi che è vero. Bravo, hai centrato, hai centrato. Io però, e poi chiudiamo perché siamo andati un po', siamo un po' dati oltre all'oraio normale, e io mi tengo ancora per me qualche considerazione, che spero siano sbagliate. Io spero ardentemente che sabato sera, tra l'altro diamo un'anticipazione, noi potremmo lanciare alla pagina Facebook il pre-gara direttamente da Legnano News, che è la TV privata che cura tutte le trasmissioni, e anche per conto di LNP. Quindi noi potremmo far vedere il pre-gara e vediamo se le cose vanno bene anche il dopo-gara. Adesso ci stiamo organizzando, quindi connettetevi sulla pagina... Il dopo-gara lo decidiamo al 40esimo. Dopo la gara. No, nel senso che si può fare anche adesso, come si suol dire, potremmo anche fare, adesso ci possiamo organizzare pure con una diretta, o con una registrata come questa. Adesso poi vediamo. Che cosa c'è altro da dire? Basta allora. Io vorrei fare un augurio, un augurio però toccatevi. Se volete, io vorrei tantissimo vedere voi due il 27 aprile riempire insieme a una marea di giocatori e di tifosi delle F di Bologna il Palaeur, 27 sera contro le F di Bologna, il Palaeur strapieno, non solo per i tifosi di Roma, ma perché quelli evidentemente scenderanno giù veramente, veramente in tanti e sarà lo spettacolo dello spettacolo dell'annata che Roma, secondo me, si merita. Questo è il mio augurio. Non l'ho capito, Gabriele, dobbiamo giocare noi? Perché hai detto scendere? Grazie. Ci saremo anche noi, vedrai, che ci tireranno una canotta per fare quei 10-15 secondi. Io non voglio umiliare la gente con le mie schiacciate indietro. Dai, su, l'ho fatto per tanti anni. Eh, lo so. Voglio la Fossa al Palaeur, voglio la Fossa al Palaeur i 27 sera, che significherebbe soltanto una cosa. Non vado avanti, mi fermo qua. Bravo, fermati là, va bene. Signori, io vi ringrazio per il vostro tempo prezioso. Un grandissimo abbraccio, un grande saluto. Ci teniamo in contatto, ovviamente, per queste 48 ore che ci separano da qui alla Pala 2. Da Fabrizio Noto, da Edredo Lubrano e da Gabriele Marini, un buon poveriggio a tutti e buona serata.